Allora ragazzi benvenuti in questo nuovo video, oggi io e il buon Lollo Polko proviamo una cosa nuova ovvero siamo qua a Vigevano, campero BMX, abbiamo le bici da dirt che abbiamo appena scaricato e andiamo a fare un po' di giri in pista, qua c'è una squadra di BMX che si allena e vedremo un po' come andrà, buon video ragazzi Non sai andare in bici, non sai andare in bici, ma perché? Qualcosa devi fare adesso? Allora Lollo ha due obiettivi per questa sera, uno fare l'ultimo salto della terza linea che è un doppio e poi fare tutta l'ultima linea Cosa ne pensi? La facciamo L'era faccio salto salto L'era faccio salto salto Allora mi ha detto che devo fare anticipo doppio, step up, step down e riuscire a fare anche l'ultimo fino ad andare a correre. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Tutti? Sì! Grande! Sì Tutta Musica Bisogna girarci, girarci Sembra che non sappiamo andare in bici No, non so andare in bici No, sarebbe da venirci tutte le settimane Eh, dei motorini sono Finché quando saltano tutti i vicini Presentati Sono Marti Shortino Corro in biomix da 16 anni e faccio parte della nazionale italiana E gas è un sacco E pedalo tanto E sembri un dragster in partenza A prova A prova E dillo Meno al dentro Metto giù Meno al fuori Quindi tutto nel piano almeno Ok Meno al Il doppio e mezzo Ok Fai giù Pompi e salti l'ultimo Vedevo provare subito così Non mi fai neanche vedere Poi si cambia Arco due Ma Fai La Fai è lento, però c'era ma come me non usi freno a disco? ma quando è che freni qua? io sempre quando arrivo a farti in prima curva non è che freno la lasci scuola? serve ad arrivo ha detto il freno guarda il semaforo o no? io ascolto, al primo bifo parto ok vuole partire rosso ok radio, radio start radio, 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 radio mamma mia comunque ti sei mosso prima che adesso il cancello senza attacchi però è un casino tipo tu quando avevi fatto tre pedalate io stavo ancora andando un po' indietro per iniziare la prima mannaggia più ne fai più ne fai più ne fai io l'ultimo non l'ho ancora fatto lì però è facile? si dai salti il primo, il secondo e il terzo e devi saltare anche il terzo e poi seconda linea faccio doppio doppio anticipo manual e poi provo il triplo con le gambe dure vai ti seguo ma cosa hai fatto in quello in mezzo? anticipo doppio il buco no? si ma qui si può sapere mamma mia ok dai qua ci cacciano fuori vado io? poi mi passi ovunque lo so partenza primo salto secondo no way ti spai che dopo allora in che lo 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 è grazie mille della giornata e ci becchiamo qua di nuovo o in enduro in down nella finale allora ragazzi video breve ma vi assicuro molto molto intenso abbiamo girato parecchio più che fatto video in queste due ore e quanto è duro il bmx mamma mia da quant'è che non giravamo in campo io ero 5 anni più o meno che non mettevo piede in un camper bmx tanta roba bellissimo divertentissimo e sicuramente vogliamo tornarci magari anche una volta a settimana dal gennaio quindi chi vuole venire me lo scriva magari qua nei commenti grazie al bmx che mi dicevano grazie a marty giottino per averci fatto vedere come si fa e averci bruciato in partenza e niente iscrivetevi al mio canale ci vediamo in un prossimo video con lollo